hagakure il libro segreto dei samurai ibex edizioni quanto è distante da questo mondo il ciliegio selvatico furumao yamamoto tsune tomo sotto bianche nuvole che presso il ciliegio in fiore ci siamo appena incontrati chi sui tashiro tsuramoto conversazioni leggere sull'oscurità della notte un samurai del clan nabeshima dovrebbe interessarsi della storia e delle tradizioni del suo feudo ma al giorno d'oggi questo viene trascurato lo scopo principale per cui si dovrebbe intraprendere questo studio è conoscere le origini del clan e comprendere come la sua solidità e sia stata determinata dalla sofferenza e dalla compassione degli antenati il fatto che il nostro han abbia continuato a prosperare in maniera impareggiabile è dovuto al valore e dalla benevolenza del daimio nabeshima kyohisa alla devuzione e alla presenza del daimio ryuzoji takanobu e del daimio nabeshima naoshige non riesco proprio a comprendere come la generazione attuale abbia potuto dimenticare tutte queste cose e possa venerare dei buddha estranei né sakiamuni il buddha né confucio né kusunoki né shingen furono mai al servizio delle famiglie ryuzoji e nabeshima e proprio per questo non si può affermare che i loro insegnamenti siano in armonia con le tradizioni del nostro feudo sia in tempo di guerra che in tempo di pace sarebbe sufficiente che gli uomini indipendentemente dalla classe di appartenenza onorassero gli antenati e attuassere i loro precetti ognuno rispetta il proprio daimio del clan o il maestro della disciplina a cui si dedica ma un samurai di nabeshima non trova alcun valore negli insegnamenti che vengono dall'esterno dopo aver acquisito una profonda conoscenza sul nostro feudo si può dare sfogo alla propria soddisfazione personale imparando altre discipline tuttavia quando si approfondisce la conoscenza del proprio han ci si accorge che non è necessario sapere altro è mia opinione che oggi chi non ha conoscenza della storia del proprio feudo non sarebbe capace di rispondere una sola parola a un membro di un altro clan che dovesse informarsi circa l'origine degli han dei ryuzoji e dei nabeshima lo stesso vale per chi domandasse come mai l'han sia passato dai ryuzoji ai nabeshima o per chi si domandasse si sa che i ryuzoji e nabeshima sono i più forti del kyushu nelle gesta militari a cosa si deve tutto questo il proprio dovere dovrebbe essere l'unica cosa che conta per un samurai alla maggior parte delle persone non piace la propria mansione anzi ritengono più interessante quell'altrui questo causa invidie e porta a disgrazie il daimio nabeshima naoshige e il daimio nabeshima katsushige uni rappresentano modelli di uomini dediti al proprio ufficio ogni samurai di quel tempo compiva il proprio dovere coloro che appartenevano alla classe dominante cercavano di assoldare uomini abili mentre quelli delle classi inferiori aspiravano ad essere utili gli intenti di queste due classi erano i medesimi e così la forza del feudo aveva il loro accordo come assicurazione sulla propria prosperità le durissime fatiche e le sofferenze affrontate da naoshige sono indicibili in battaglia madito di sudore e coperto di sangue si ritrovò diverse volte sul punto di fare seppuku tuttavia si trattenne tenendo in mente il bene del suo feudo anche katsushige all'inizio si trovò nella stessa situazione ma resistette e alla fine diventò il daimio del feudo dedicandosi all'an sul campo di battaglia nelle attività amministrative e nella sua tutela katsushige una volta disse che i sudditi non prendono mai alla leggera o impunemente ciò su cui si basa il feudo che il feudo possa conservare la propria pace la propria prosperità in tempo di pace i costumi si corrompono ci si dimentica della guerra e si vive nel lusso la decadenza spirituale e materiale aumenta e il feudo cade così in rovina i vecchi muoiono mentre i giovani sono ormai interessati solo alle mode se tramandassimo la storia del feudo con un libro le generazioni future potrebbero conoscere il passato e comprenderne l'essenza katsushige dedicò alla scrittura tutto il resto della sua vita sebbene io non conosca le tradizioni segrete del feudo i samurai anziani raccontano che l'arte della guerra veniva insegnata al nuovo daimio e trasmessa così personalmente di generazione in generazione katsushige conservava due importanti libri di precetti estratti sulle percezioni visuali e sensitive e tre documenti scritti da un padrone ormai defunto questi furono consegnati al daimio al momento della sua investitura esisteva anche un quaderno di sottile carta gialla in cui venivano trattate le punizioni gli usi e i costumi della casa del daimio gli uffici interni la centralizzazione del potere così come la descrizione dettagliata di arti e mestieri grazie a quest'opera inestimabile il feudo poter prosperare a lungo per quanto indegno possa essere io prego l'attuale daimio di non dimenticare le dure prove e i sacrifici di naoshige e katsushige di leggere i libri tramandati fino a lui e di averli a cuore egli evita i propri doveri di sovrano e agisce in base al proprio piacere in tempi come questi uomini astuti che non conoscono a fondo le cose del mondo si vantano della propria saggezza intromettendosi nel governo del feudo ed escogitando ogni volta nuovi stratagemmi per ringraziarsi il daimio le cose così peggiorano tuttavia per fortuna le basi sono solide e questo perché le opere e le norme degli antenati sono ben salde finché saranno osservati i precetti di naoshige e katsushige il feudo sarà governato con saggezza si manterrà stabile e senza turbamenti tra tutti i signori del nostro han non c'è mai stato un tiranno o uno sciocco in nessuna generazione e nessuno di loro è mai stato secondo ad altri in giappone grazie alla fede dei suoi fondatori il nostro è un feudo veramente meraviglioso inoltre i nostri sovrani non forzarono al trasferimento in altre province i samurai del nostro clan né dovettero mai ricorrere a personale straniero sia coloro che sono diventati ronin sia coloro che sono discendenti di cui ha dovuto fare seppuku venne concesso di continuare a vivere nella provincia questo patto reciproco tra signore e sudditi non riguarda solo i samurai ma anche i contadini e gli abitanti della città è una benedizione inesprimibile che viene tramandata di epoca in epoca un samurai di nabeshima dovrebbe essere consapevole di tutto questo e dovrebbe essere anche profondamente deciso a ripagare questa benedizione rendendosi utile servendo in modo disinteressato quando è trattato con benevolenza dal daimio comprendendo come anche diventare ronin o ricevere l'ordine di fare seppuku siano forme del servizio reso al daimio egli deve aspirare a ricordare sempre il clan pur trovandosi in esilio sulle montagne o sepolto sottoterra dopo la morte questa è l'aspirazione massima e l'oggetto della determinazione di un servitore della casa di nabeshima sebbene affermare ciò sia poco conveniente per la mia condizione di monaco io non aspiro a diventare un buddha la mia volontà è invece guidata dalla ferma determinazione a contribuire alla prosperità del feudo e di rinascere come samurai di nabeshima per sette volte per ottenere ciò non serve né la forza né il talento ma basta la semplice aspirazione ad assumersi le proprie responsabilità nel feudo essendo gli uomini tutti uguali come può un uomo essere inferiore a un altro la disciplina senza una grande volontà è inutile se egli non è determinato a mandare avanti il clan anche da solo tutta la sua disciplina finirà in nulla come un bollitore per il tè si scalda e si raffredda facilmente così accade per l'entusiasmo tuttavia esiste un modo per impedire che tutto questo avvenga ecco quali sono i miei quattro voti uno non essere mai sconfitto nella via del samurai due essere utile al daimyo tre praticare la pietà filiale nei confronti dei genitori quattro mostrare grande compassione e agire per il bene dell'umanità se ogni mattina si recitano questi quattro voti agli dei e ai buddha si avrà la forza di due uomini e non si indietreggerà mai ma come un bruco si avanzerà lentamente un poco alla volta anche gli dei e i buddha iniziarono con un voto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti